Siamo con Enrico Ruggeri a Montesilvano e come sapete ormai Montesilvano è la sede del primo premio culturale e musicale Massimo Riva. Enrico ha scritto tre canzoni insieme a Massimo Riva, Maledetti, Pelle Rossa e Polvere d'Oro nel suo passato con la Steve Rogers Band e nel suo passato una solista e chiediamo a un artista del genere un ricordo. Io ho avuto pochi amici tra i cantanti musicisti, non sono uno di quelli che passa la giornata della vita a vedersi con gli altri cantanti e qui ho avuto solo amicizie vere e devo dire con Massimo soprattutto per il suo periodo milanese, c'è stato un periodo in cui lui abitava a Milano e ci si vedeva veramente spesso ed era una persona di grande profondità, di grande simpatia, esageratamente simpatico, era uno di quelli con cui tiravi tardi. Quanto freddo che ho, quanta voglia di polvere d'oro non è più il tempo di combattere loro sono scappati tutti via, questo freddo che ho, questa voglia di polvere d'oro Per cui un bellissimo ricordo, paradossalmente quasi più umano che musicale, perché poi musicale lui aveva la sua storia ben scritta e ben importante con Vasco, ci siamo incrociati appunto per tre canzoni, per un album di Luigi Schiavone nel quale Massimo e io abbiamo cantato, abbiamo anche suonato due o tre volte in giro assieme, una volta è venuto a trovarmi c'era la curva dell'Olimpico a Roma e lui è arrivato e abbiamo fatto una cosa molto bella, molto sentita, perché poi lui è uno che era nato sul palco, insomma era un animale da palcoscenico per cui si stava volentieri sul palco. è uno dei nostri amici più cari, è venuto qui a trovarci per cantare qualcosa assieme e quando si parla di lui non c'è da fare altro che alzarsi la gonna, Massimo Riva Vivo uno nel buio, nella notte passano la bronchiera, fuori di sé dalla noia che c'è per una ruota che non gira mai. Parlano sul serio e non hanno limite né bandiera, hanno un'idea e la buttano via e se li cerchi non li troverai. Non hanno pace, non hanno un compito, non hanno chiesto mai aiuto né pietà, sono una malattia. Sanno stare in pista, ma non hanno certo girato in tondo, scappano già se domandi l'età oppure nomini domani. Non ti fanno festa e non hanno scelto di stare al mondo, ridono se vuoi parlare di te non hanno nulla tra le mani. Se c'è una voglia che arrivi subito, non hanno scelto mai nessuna verità, sono belle rossa di quartiere che non li incontri mai se non li vuoi vedere. Belle rossa, gli angoli di strada, ho paura ancora quella loro spada. Vivo, non è buio, nella notte passano la frontiera, fuori di sé dalla noia che c'è per una vita che non gira mai. Tra l'altro il premio, come ormai saprete, ha un risporto sociale per volere nostro, dei ragazzi della scuola Riva di Zocca e soprattutto della famiglia Riva. e quindi i ragazzi che avranno a disposizione questi strumenti musicali e un insegnante che li seguirà per un anno, sicuramente canteranno anche e suoneranno le canzoni che Massimo ha scritto insieme ad Enrico. E noi vi vogliamo lasciare con una frase che a me personalmente piace molto, su maledetti, che chi non vuole più suonare non dovrebbe avvenire. Sì, è una delle frasi più azzeccate, credo, di queste tre canzoni che abbiamo scritto assieme. Perché una volta è nata, diciamo l'ho scritta io dal punto di vista nominale, però è nata parlando proprio con Massimo del fatto che c'è un sacco di gente che comincia a suonare e poi smette. E allora noi abbiamo detto, chi comincia e poi smette, facevamo, perché va a evitare di cominciare. Ed è stata proprio questa la motivazione che mi ha portato alla scelta di Enrico come personaggio per battezzare il primo premio dedicato a Massimo, perché di passione, coerenza e la cultura del lavoro Enrico, se mi posso permettere, ha fatto una bandiera e la passione di Massimo era la stessa. Si viveva solo ed esclusivamente per la musica e i risultati si raggiungono solo ed esclusivamente per la musica. I romanzi, i concerti, le canzoni, tutto fatto con il massimo dell'impegno, del lavoro e della passione. E poi se sono fatte bene le cose durano nel tempo. Di Massimo, stiamo parlando di Massimo che purtroppo non c'è più da un po' di tempo, eppure grazie alla musica che ha fatto e alle sue qualità è ancora una persona della quale si parla come se fosse tra noi in un certo senso. Grazie ad Enrico davvero per la disponibilità e grazie a tutti voi. E come dice qualcuno sempre sul palco, viva Massimo Riva. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!